MAULOCRAFT 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 E' NOT業 ISSUPAFT MAULOCRAFT MAULOCRAFT lì per l'altare a Gino allora signori ci siamo andiamo qui nella nostra bellissima incudine e mettiamo una prima targhetta in cui renderemo omaggio a Gino e chiameremo Gino Gino, Gino, Gino Gino no, si è rotta l'incudine no, non ci posso creare, si è rotta l'incudine è una maledizione praticamente abbiamo dell'altro ferro per creare un altro incudine non abbiamo altro ferro per creare un altro incudine perfetto, allora renderemo semplicemente omaggio a Gino, signori miei Gino, secondo lo caricheremo lo nomineremo quando potremo fare un incudine nuovo perché attualmente non abbiamo incudine da poter fare allora facciamo un quadretto bellissimo è bello come si iniziano delle live con un obiettivo e poi se ne fa tutto un altro praticamente, però va bene però va bene il mondo è bello perché vario, signori miei il mondo è bello perché vario allora facciamo il quadretto bellino così che carino il quadrettino allora, leva sta torcia leva pure il quadrettino me lo puoi mettere lì? sì, perfetto il cubotto di neve lo puoi mettere lì? perfetto e lì qui già c'è Gino, signori miei no, no, no ti devo dare il nome non posso nominarle il cubetto di neve? no, non posso nominare il cubetto di neve dai, ma che cosa triste non posso nominare il cubetto di neve? no, mi ci mette... va bene, allora qui già c'è Gino, signori miei sappiamo che qui già c'è Gino Gino con la sua targhetta che non possiamo mettere lì a vicino praticamente non gli possiamo mettere la targhetta di Gino a meno che non faccio un altro a meno che non faccio... che bello, quando uno inizia un video per fare una cosa e poi ne fa tutt'altra vabbè, questo video durerà un bordello, signori miei sappiatelo, questo video sarà molto lungo ok, signori ci siamo mettiamo un'altra fence qua sopra mettiamo un altro quadretto qui me la fai mettere la targhetta? perfetta, signori miei il ricordo di Gino qui già c'è Gino, signori miei e qui già c'è Gino posso fare l'altro tizio? posso fare l'altro tizio che però non potremo nominare, signori non avrà un nome questo questo sarà l'innominato l'innominato aspettate, chiudiamo prima che mi scappa leva quella torcia facciamo che se piglia de caldo e mi scioglie mi si scioglie uno, due e tre pole signori Gino 2.0 non ho la cesoia non ho la cesoia mannaggia non ho la cesoia tu però ti tieni il casco protettivo non si sa mai riesci a fare la neve tu o sei noioso oppure come Gino è il tuo predecessore fai il tuo buon lavoro come Gino prima di te Gino 2 lui è Gino 2 signori miei allora signori miei allora l'obiettivo di questa live di questa live che cazzo non lo dico l'obiettivo di questo video è quello di completare un pochetto meglio il magazzino che con quella torcia davanti proprio si completa dalla grande allora signori miei io non ho più legno nell'inventario quindi recupero il legno nell'inventario e ci rivediamo a attrezzature pronte per poter lavorare ragazzi sapete quando voi dite allora perfetto ho l'idea per questo video lo faccio e lo sistemo e facciamo questo in questo video ovvero l'obiettivo era continuare la costruzione all'interno del magazzino così da farlo carino e coccoloso giusto così da poterlo iniziare a sistemare tutto quanto imprevisto numero 1 la vita è bella perché varia imprevisto numero 1 numero 1 siamo usciti da casa nostra e abbiamo trovato Gino scomparso morto distrutto quindi ho voluto condividere con voi questo momento di dolore che è stato molto importante per me abbiamo perso il nostro Gino adesso qui c'è Gino 2 con la faccia da zucca che andremo te la sistemo con la faccia non mi guardare così Gino 2 Gino 2 non mi guardare così non mi guardare così fai la neve pensa a fare la neve invece non fa nulla allora qual è il discorso sono venuto qui bello tranquillo ho raccolto gli alberi che mi servivano per fare l'ambara d'anna aspettate che mi raccolgo tutto quest'altro di ciappi di alberelli di stichettini che ci servono ho detto perfetto ok abbiamo raccolto un po' di alberi più o meno i calcoli ce li ho fatti ma la che vada torno e mi recupero altri alberi giusto cioè quello che tutti penseremmo tranquillamente fatto questo che ho posato il legname il superfluo legname mi sono arrivato qui nel nostro ministero di stagione ho girato io ho detto ora vado dalle mucche così praticamente con le mucche mi inizio a ciapparle male e mi faccio un poco di di pelle giusto e guardate chi c'è mimetizzato in mezzo alle mucche raga guardate chi c'è mimetizzato in mezzo alle mucche che cazzarola ci fanno i pillager in mezzo alle mucche tra l'altro sta scendendo pure la notte ma dove state voi ma io dico ma vi sembra normale che c'ho i pillager mimetizzati in mezzo alle mucche raga no mi stanno ammazzare mi stanno a cioppare le mucche ma secondo voi è una cosa normale ora dico è una cosa normale secondo voi è una cosa non lo so boh boh tutto a me capito tutto a me doveva essere un altro tipo di video abbiamo i pillager come ci sono entrati no ora mi seguono mi picchiano mi ciappano tutte le mucche questi mi picchiano tutte le mucche l'altro è pure notte rischio di uccidere a Gino 2 rischio di uccidere a Gino 2 raga rischio di uccidere a Gino 2 allora io non so cosa sto picchiando sei pillager o le mucche sei le mucche o i pillager dove sta l'altro devi morire pure tu zio che cosa ci sei venuto a fare qua il fatto che questi arrivino sempre in questa direzione mi fa dove stai andando zio devi morire non ci puoi stare in questo video zio non eri invitato a questo video c'è qualcun altro c'è qualcun altro non lo so giochiamo a nascondino qualche altro no non c'è nessun altro perfetto allora torniamo a casa andiamo a dormire prima che spunti uno scheletro e mi faccia volare pure Gino 2 cortesemente grazie sarei molto grato evitate di farmi volare Gino 2 Gino 2 tu non fa casino mi raccomando andiamo a dormire ragazzoli e facciamo un attimino il punto della situazione perché uno fa il video per una cosa e si ritrova in tutta altra situazione Fuffi prima o poi farò anche la casa a te non ti preoccupare Fuffi non ti preoccupare sei sulla lista delle cose da fare c'ho una freccia conficcata nel piede però va bene è la seconda volta che io incontro Pillager oddio uno che mi droppasse la balestra uno uno che mi droppasse la balestra mannaggia a loro uno che mi droppasse la palestra sì la palestra una palestra sana volevamo droppata allora recuperiamo un attimino di carne che questa qua ci serve e la mettiamo qui questo standardo dove lo possiamo mettere questo standardo? non io ne ho più palle di asini la possiamo mettere per ora qua nella farm di pesca la mettiamo qua nella farm di pesca e poi si vede anche qui dovremo fare qualcosa per renderla un po' più simpatica questa farm di pesca perché così è veramente brutta però prima o poi lo faremo stiamo rendendo il mondo tutto pieno di questi standardi che non sono una cosa bellissima qui qualcuno si è divertito a rompermi le piantagioni cioè è impressionante parti per un obiettivo e te ne ritrovi a fare un altro te ne ritrovi a fare un altro ragazzoli che vi devo dire? e che possiamo fare in questo video in questo video facciamo una cosa raga sapete che facciamo in questo video per concluderlo ho visto che sarà andato a quel paese e tutto quanto me ne ho diminiera becco un po' di ferro facciamo nuovamente il la come cazzo l'ingudine e nominiamo Gino II e lo chiediamo qui e per oggi la chiediamo qui ci vediamo quando c'è tanto ferro ok ragazzoli siamo stati in miniera abbiamo raccolto un po' di ferro un po' di materiali ovviamente ho appena detto ovviamente non abbiamo trovato diamanti invece raga eccoli qua quando uno dice facciamo una cosa cioè ma quando l'ho scavato sto diamante neanche me ne sono accorto pigliamolo raga piglia magari non con la spada pigliamolo pigliamolo signori miei uno uno quanto meno un diamante un diamante raga ma perché uno dico io due dai almeno due almeno due no è uno è uno cioè ma che tristezza raga ma che tristezza è uno vabbè come se non avessimo trovato nulla praticamente riesce a ciapparlo non ce lo inventerò pieno butta sta freccia butta sta terra sta pietra anzi un diamante me lo porto a casa un diamante è per sempre raga un diamante è per sempre bello che avevo detto niente neanche stavolta abbiamo trovato diamanti abbiamo trovato un diamantozzo va bene e mettiamo a cuocere tutto sto ferro tutto sto ferro lo mettiamo sopra che dovrei avere no è notte raga è notte se mi spunta se mi spunta uno scheletro che mi ammazza Gino Secondo io mi cavolo parecchio per un attimo ho avuto paura ho detto che cazzo ci sono i pillager vicino a casa devi correre non devi spawnare nessuno c'è un enderman ma ce ne freghiamo altamente ce ne freghiamo altamente l'enderman dobbiamo andare a dormire l'enderman del giorno ci sta i mostri di giorno non devono toccarmi Gino andiamo a dormire andiamo a dormire andiamo a dormire dopodichè metterò a cuocere tutto il ferro e appena avremo tutto l'ombra down pronto ci vediamo per concludere questo video raga ok ragazzoli allora ho raccolto il ferro che piano e piano si è andato cuocendo facciamo i nostri bellissimi tre blocchi dovrebbero essere sono due non mi ricordo sono due o sono tre uno due tre no sono tre blocchi di ferro che ci servono mi facciamo uno due tre perfetto che si fanno se non ricordo male così e poi questo messi così giusto ci siamo oh perfetto abbiamo la nostra bellissima incudine andiamo a ripiazzarla qua ovviamente anche qui un giorno sistemeremo tutto signori miei targhettina e lo chiamiamo Gino Secondo Gino Secondo ti sa quanti Gini dovremmo fare raga Gino Secondo ce l'abbiamo recuperiamo solamente un attimo lecce e zoie signori miei dopodichè andiamo a dare il nostro bellissimo nome al nuovo Gino che ancora ho il cuore spezzato da Gino 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 non so qua ce l'ho dove stanno ce l'ho ce l'ho ok trovate le ce l'ho e ragazzoli niente questo video è stato un po' così a come si dice a cavolo per essere puliti e niente domani sera vedremo di riuscire a completare il magazzino se non ci saranno altri imprevisti Gino Secondo abbiamo Gino Secondo guardami guardami oh che carino Gino Secondo Gino Secondo signori miei lo so che prima o poi finirà a fianco a Gino primo però va bene detto questo ragazzoli aspettate che cambia l'inquadratura così inquadriamo anche Gino detto questo ragazzoli vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un altro contenuto bella raga ciao